Quale luogo della città alta che ti ha colpito di più? Mi ha colpito di più quale? La città delle mura di Bergamo. Motivo? E' uguale la torta. E' impossibile specificare ingredienti. Dentro da scoprire. E' un gusto. E' impossibile dire le parole. Mi ha colpito. E' un patrimonio da vedere, toccare, odore, vedere, anche tante. E' tutto. E' visitato Tuomo, piazza, più la cappella di Coleone, per quello si chiama città Bergamo. Motivo tre cioppini. Collegato del simbolo. Percorso, piazza Cittadella. Poi abbiamo passato il ristorante visto. L'unico famoso in gelato Trassadella. E' famosissima. Lì, con le aperto, siamo passati. Abbiamo parcheggiato dove via delle armi. Una panorama è impossibile spiegare. Cosa suggerisci per rendere la città alta più accessibile e accogliente? Io propongo un po' critico, ma non è male, quale? Il parcheggio ridurre. Per dare più petonale, più per le persone, anche per la carrozzina, perché ci sono anche le persone sordi che hanno la carrozzina. Sordi autistici, sordi silecici, sordi ipopatenti, sordi scechi. Quindi abbiamo anche noi per comunicare. Anche per tutte le persone disabilità hanno diritto. Siamo 2022. Cercate più i fiori. Il motivo? Qua è una piccola della ex autriaci. L'Utis-Salisburgo è una fiore dei fiori. Qui è possibile aumentare i fiori.